Grande successo per il workshop di Action Group di Firenze. Erano oltre 500 gli iscritti all'appuntamento del 10 marzo 2014 dedicato al retail tra arredamento e contract, svoltosi nella prestigiosa cornice della Fortezza d'Abbasso. Partner tecnico della giornata Gruppo Basso Lefim Gruppo Basso opera nel settore immobiliare e costruzioni dal 1930 e opera mediante l'aggregazione di quattro società Costruzioni Generali Basso, l'azienda fondatrice del gruppo che opera nel settore costruzioni e aziende prefabbricate nelle zone di provincia di Veneto, Friuli, Emilia, Toscana e Lombardia con interventi chiavi in mano, sia conto terzi che per le aziende del gruppo. Lefim opera invece nel settore promozione immobiliare in quanto promuove attività immobiliare nel settore industriale, commerciale, logistico e direzionale dirette alla vendita e alla locazione. Poi abbiamo l'attività Sugeicom, società che opera i servizi facility management e la BHR come attività alberghiera nella zona di Treviso e con prossime aperture in Emilia, Veneto e Friuli. I servizi che il nostro gruppo offrono è il servizio dell'assistenza alla progettazione avendo 70 anni di esperienza nel settore costruzioni il servizio anche di vantaggi per l'informazione in merito alle nuove normative della sismica e la questione dell'isolamento in quanto Costruzione Generale Basso ha anche vissuto le esperienze con il terremoto del Friuli e dell'Emilia e questo ha portato a un miglioramento continuo della tecnologia l'azienda è stata riqualificata tra una delle poche aziende che non hanno avuto nessuna contestazione nel terremoto dell'Emilia in quanto abbiamo sempre adoperato il sistema della qualità non solo a livello di certificazione ma anche nella concretezza e poi con l'attività dell'impresa possiamo anche dare un servizio post vendita con la manutenzione degli interventi da noi realizzati dando delle istruzioni per le manutenzioni e il mantenimento delle opere integre riteniamo importantissimo questi eventi perché oggi come sempre di più è importante lavorare in equipe insieme ai progettisti lavorare una sinergia di gruppo un interscambio di conoscenze e di esperienze e con il nostro gruppo possiamo operare sia nella sinergia per la costruzione ma anche per poter cercare di trovare possibili rapporti di collaborazione con studi per creare lavoro e avere a sua volta dei possibili sinergie nell'attività di vendita e allocazione A proposito di contatti abbiamo visto qua il vostro tavolo pieno di gente durante la pausa, quanti appuntamenti e come sta andando la giornata? La giornata sta andando molto bene, abbiamo già fatto una quindicina di incontri di interscambi, poi speriamo che continui così e lo valutiamo in positivo